I 76 licenziamenti alla Campagnolo Commerciale sono evitati, perlomeno per ora, visto che quella ottenuta oggi nel vertice di Palazzo Nievo a Vicenza rischia di essere una soluzione tampone di una vicenda che minaccia di scoppiare nuovamente tra un paio di mesi. La avvertenza tenuta nella sede della provincia è di quelle cruciali per un territorio già provato dalla crisi, mentre i lavoratori manifestano all'esterno del palazzo con bandiere e striscioni, dentro si cerca la quadratura del cerchio per limitare i danni di una crisi aziendale dai risvolti potenzialmente drammatici. CGL, Cisle, Will e RSA da un lato, rappresentanti dell'azienda di Romano Dezzelino, di Confcommercio e di Confindustria dall'altra, alla fine sono giunti ad un accordo che prevede vi possa essere la mobilità solo su base volontaria, quindi in particolare vi accederanno coloro che sono vicini alla pensione. È però una soluzione fragile che può reggere appena fino a febbraio, quando si esaurirà la cassa integrazione. Tra poche settimane a inizio gennaio si terrà un nuovo vertice, i sindacati sono intenzionati a chiedere ulteriori ammortizzatori sociali, ma quella della Campagnolo Commercio è una vicenda della quale si devono fare carico le istituzioni. Invitiamo gli amministratori locali, i consiglieri regionali e i parlamentari ad approfondire il caso e l'appello dei sindacati ne va della sopravvivenza di oltre un centinaio di famiglie del Bassanese.